I doni della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara e i bambini ricoverati in pediatria e pediatria oncologica dell'ospedale Civile. Una festa di Pasqua particolare per i piccoli dirigenti grazie alla generosità della Guardia di Finanza con il supporto immancabile di Edricesta. Quella andata in scena questa mattina, la presenza di tanti volontari dell'Edricesta, dei vertici della Guardia di Finanza e dei dirigenti dell'Asole di Pescara. Sì, stiamo approfittando delle festività pasquali per essere vicini alla collettività e soprattutto ai più piccoli, a coloro che giustamente non potranno passare magari vicino ai propri cari. Quindi siamo venuti noi da loro per manifestare la presenza dello Stato, la presenza della Guardia di Finanza vicino a chi ha più bisogno. Quindi sarà l'occasione per fare anche qualche regalino, qualche pensiero e manifestare ancora di più la nostra vicinanza. Assolutamente sì, è un'altra giornata, un'altra bellissima giornata, una collaborazione con le forze dell'ordine, con Carla Panzino, con tutti noi. Quindi approfitto per ringraziare Carla per tutto quello che fa, con forza, con volontà, con tenacia, posso solo dire, meno male che c'è Carla. E Carla, insomma, ogni festa adriacesta non può mancare questo gesto di grande amore per i bambini di questo ospedale. Sì, in genere per tutti i bambini. Ringrazio la Guardia di Finanza, con la quale abbiamo collaborato anche tante volte nel passato. Voglio ricordare il concerto con la banda della Guardia di Finanza, voglio ricordare anche la visita dei bambini in ospedale portati all'Aquila quando c'era il Presidente della Repubblica e tante altre iniziative che abbiamo fatto portando i bambini anche in mare sulle motovedette della Guardia di Finanza. Non per ultimo esaudire il sogno di un bambino vestito da finanziere per pilotare l'elicottero della Guardia di Finanza, del sogno di un bambino. Questa volta ci hanno contattato perché volevano trasformare la Pasqua, le festività di Pasqua, in una festa per coloro che erano costretti a rimanere in ospedale nelle festività pasquali. Abbiamo pensato di fare questo con tanti giocattoli, anche loro si sono tutti i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, si sono tassati per poter fare una piccola donazione all'Associazione e anche per portare questi giocattoli e dei piccoli ovetti che consegneremo poi ai medici, sapranno loro come distribuirli.